a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabriel io birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora si chiama full chabs sarebbe un liquido alla crema d'arachidi buro d'arachidi sfizioso per l'inverno andiamo a fare la prova di svappo di questo liquidozzo preso dal svappo caffè ricordiamo marina di carriamo di ciara e la spezia è andato a trovare vai gabri con il grani è tornato e io con la tesla vader 3 e l'apocalips buono dulce burroso dolce non salato vero però buono per l'inverno è ideale che ti riscalda un po ambiente che ho fatto gli dai 10 a me sono un genere di liquidozzi che mi piacciono cremosi burrosi belli cari belli carichi un buon liquidozzo anche cioè non smaga per me perché non è proprio carichissimo però a me piace durante il giorno ce la fai svapparlo benissimo se ti piace se ti piacciono questi giusti un po' sanno dopo un po' buon che smagare a meno io sono quello che voglio sentire sempre è la Roma sempre più carico quindi ci vado a nozze con un liquidozzo così allora dalla taberna dello svappo è tu se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare vi aspettiamo ciao